E' andato in scena l'ex carcere Le Nuove di Torino, ritratti, memorie e voci a 70 anni della liberazione. Racconti in prima persona di carcere e deportazione, pubblicati su riviste o da piccole case editrici locali. Tra i promotori dell'iniziativa, il Comitato Resistenza e Costituzione. Le carceri sono luoghi nei quali bisognerebbe estinguere una pena. Gli uomini e le donne della Resistenza che qui sono stati carcerati non avevano nessuna pena da estinguere. Volevano soltanto dare il loro contributo perché l'Italia diventasse finalmente un paese democratico. Per questa ragione fare memoria in un luogo come questo in qualche modo ha più valore.